Allora andiamo un po' in casa Inter perché da ieri è ufficiale, Simone Inzaghi è l'allenatore più pagato della Serie A poi lì se la gioca con Conte, è una questione anche di bonus però Inzaghi ha firmato 6 milioni e mezzo sicuri all'anno più bonus che stando a quello che filtra sono bonus molto corposi cioè per esempio se dovesse vincere ancora lo scudetto si parla di addirittura 2 milioni di bonus Quindi Inzaghi potrebbe arrivare tranquillamente a prendere 8 e mezzo 9 l'anno prossimo Qual è però l'altro lato della medaglia? La durata del contratto Marcello perché ne parlavamo anche ieri, Marotta dice il nostro condottiero Leader, leader, leader Vogliamo andare avanti con lui ben oltre però intanto gli fa soltanto un altro anno di contratto quando invece lui ne aveva chiesti due Vorresti fare la domanda prima abusato però No no ma è uguale Il tuo campo dovresti prima di tutto rispondere a te Voleva due anni con l'opzione per il terzo invece ne fanno solo uno però gli mettono un bonus che secondo me Ma questo cosa vuol dire? Che la fiducia è legata ai risultati e basta? Secondo me non è mai stato 2026 Cioè lui aveva ancora un anno, ne chiedeva due No ne chiedeva forse anche tre Posso farvi però una domanda su Inzaghi? Sì Ma c'è qualcuno dopo lo scudetto e anche la finale Champions che si è strappato i capelli per portarsi Inzaghi nella propria società? Lui però ha detto Lui dice che ha avuto delle offerte Allora aspetta, bravo, bravo Però lui ha detto Faccio così, stravolgo un attimo Vi faccio ascoltare la risposta di Inzaghi Devono venire fuori i nomi Qualche società mi invica i nomi Vi faccio ascoltare la risposta su questa domanda Più o meno era così la domanda Ma qualcuno questo è stato che ha corteggiato Vedi che non ho sentito niente Inzaghi Sono felicissimo Ringrazio la società, il presidente Tutti i dirigenti che sono qua Mi sento a casa Mi sento apprezzato Ed è questa la cosa che conta più di tutto Insomma non siamo mai stati lontani Mai in questo mese e mezzo che è finito il campionato Quindi ringrazio la nuova proprietà E tutti i dirigenti Sono passate 158 partite Ma come ha detto il nostro presidente Insomma speriamo che ce ne siano altrettante So che non è semplicissimo Mantenersi tanti anni in queste grandissime squadre Ma è il mio grande obiettivo Non solo quest'anno Mi fa piacere Insomma da quando allenavo la Lazio Anche il primo anno di Inter Quest'estate sì Non lo nego Ma non ho mai pensato minimamente Di andare via dell'Inter Perché sono in un posto dove mi sento apprezzato E quando mi sento apprezzato Non sto neanche a sentire Quello che potrebbe essere Cosa potrebbe succedere Perché mi sento realizzato Mi sento in una famiglia Mi sento in un ambiente dove sto bene Dove c'è una grandissima sinergia Con la società Con i ragazzi Con questi splendidi tifosi Quindi fanno piacere gli apprezzamenti Ma non sono stati mai nei miei pensieri Ecco Massimo La risposta l'hai sentita Lui dice sì E non solo quest'anno Più volte Però Allora Dipende che livello di club Io non ci credo Posso Eh come no Ok Qualche operatore di mercato Mi ha detto che non ha avuto Nessun club Che gli possa aver detto Vieni che ti do Dieci milioni In effetti L'allenatore che vince Lo scudetto con l'Inter No? Ci sta che arrivi Ma ragazzi Ma ragazzi Non lo so Certo Ma scusate Ancelotti che era Che era A Real Madrid Ha ricevuto un'offerta Dal Brasile Dalla nazionale brasiliana E l'abbiamo saputo tutti Cioè Io credo Il Liverpool Ha cambiato club Scusa Perché non è andato Il Bayern di Monaco Scusami Ha preso company Si è preso company Perché non fagli Io so Che sulla lista Del Del Direttore sportivo Del Bayern Non c'era il nome Di Inzaghi Ma c'era il nome Di Antonio Conte C'era il nome Di company Che l'han preso C'era il nome Di Ciabbi Alonso C'era un altro nome Di un allenatore Tedesco Che non Non mi ricordo Ma non c'era il nome Di Inzaghi Io Quando dico Non ti ha cercato nessuno Nagelsmann 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 Bravo Non c'era Io sto parlando Io sto parlando Di questi club Io sto parlando Manchester United Manchester City Paris Saint Germain Esatto I top Cioè Allegri Prima di andare Alla Juve Ha cercato il Real Il Real Aveva già fatto tutto Aveva già fatto tutto Con il Real E lui non se l'è sentita Perché avrebbe lasciato Il bambino Quello che adesso ha 9-12 anni Adesso non ricordo quanti Che era molto più piccolino E non voleva andare All'estero Questo mi ha spiegato lui Ma aveva Aveva già fatto tutto Branchini Aveva già fatto tutto No ma ci mancherebbe E quindi Riccardo È anche un discorso di Cioè Marotta Probabilmente Sapendo anche questo Guarda a caso Marotta Non è che se l'è blindato No 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 Sennò me lo portano via Però credo che Anche con Spalletti Ci fu lo stesso ragionamento Cioè Anche allora Non venne fatto Un contratto Di 4 anni Ma questo ha vinto però Come? Questo ha vinto Ma è una situazione Sul terzo Però gli è andato Anche dei bonus Che da quello che ho capito A parte uno Che è il milione Legato allo Scudetto Ci sono altre Abbastanza facili Da raggiungere Però sai Lo blindi Marcello Lo blindi Arriva Non è arrivato Però arriva Il buyer di turno Gli da 10 milioni Di netti l'anno Puoi blindare Tutto quello che vuoi Oggi l'Inter 10 milioni Di netti L'anno Un attimo Sei blindato Tu puoi andare Dal buyer E dire Se lo vuoi Mi dai 20 milioni Per via Se lo vuoi portare via Ma lo sai che funziona Loro hanno pagato Un milione Per portare via Vanoli Un milione Ho capito Però a certe cifre Secondo me Puoi blindare Tutto quello che vuoi No ok ok Ma Io credo che Non è che magari È un po' Non dico una recita Però nel senso Inzaghi si gioca La carta del Mi hanno cercato Anche per Certo Però Marotta Sapeva che non era così Ma me Però alla fine Credo che sia stata Una soluzione congrua Anche con Però tutti noi Ci siamo stupiti A vedere un anno solo Leader Carismatico Solo un anno Tutto solo un anno Io però anche lui Quando sento Simone Inzaghi Che dice No ma io qua La famiglia Tutti amici Dice un mese e mezzo Non siamo mai stati lontani Ma io dico Simone Scusami Ma ti ricordi Cosa dicevi Due anni fa Un anno e mezzo fa Un anno e mezzo fa Un anno e mezzo fa Tutte le critiche Che addirittura Non si sapeva Se lo rinnovavano Tu ricordi cosa dicevi Simone Io me lo ricordo Meno male Che mi sono stati vicini La mia famiglia E alcuni miei amici Che qui posso L'hai ricordato anche tu Ieri sera Posso distinguere Chi è mio amico E chi non è amico Improvvisamente Un anno e mezzo dopo Sei nella migliore Nella famiglia Tutti che ti vogliono bene Ma lo sai come sta Ma lo sai Che adesso Cos'è cambiato No perché adesso Ha vinto lo scudetto Ma va bene Ma ha maggior ragione Ma ha maggior ragione Io se vinco lo scudetto Vado da quelli Che non consideravo Mie amici E gli dico Beh oh caro Io adesso Ti ho dimostrato Quello che tu non credevi E adesso paghi Se mi vuoi Invece no Non lo so Io credo Che lui sia arrivato Però posso dirti ricchi Scusami No Ma ci sono stati Quest'anno Lascia stare in Italia Ma all'estero Chelsea Manchester United Bayern di Monaco Liverpool Ci sono stati Questi quattro Top club Barcellona Barcellona Che hanno cambiato No va bene Ragazzi Mai Secondo me mai Forse Pochissime volte Nella storia Hanno cambiato In così tanto Top club Esatto Questa congiuntura Non c'è stato Mezza voce Scusa Non è mai uscita Una voce Non c'è mai stata Una voce Al Chelsea Hanno preso Maresca Ragazzi No però E hanno chiesto Questa te la dico Hanno chiesto a Fabregas Di andare a fare Il secondo Maresca Fabregas Alcomo Che gli ha risposto Ma ragazzi Ma state impazzendo No tra l'altro Hanno chiesto a Fabregas Di andare a fare Il secondo Fabregas Alcomo A Maresca Sono impazziti Fabregas Fabregas Tra l'altro Premo parentesi Alcomo Stanno facendo uno squadrone Sì sì No no Però per dire Per dire Però io credo Che bisogna parametrare tutto Allora Inzaghi È un allenatore Che sta crescendo No Perché comunque Il livello di gioco D'accordo Ma io ti faccio Una domanda E tu dai subito La risposta È più forte La squadra O è più forte L'allenatore O sono forti Tutte e due Insieme Uguali Io penso Che sia più forte La squadra L'allenatore Però la squadra Gioca bene Ma la stacca È giocato bene Però sai La squadra Scusa Io identifico Io faccio sempre questo Perché se no L'allenatore Non ha mai meriti In una squadra Io dico È più bravo L'allenatore O più forte La squadra Dell'allenatore Io faccio sempre Questo confronto Qui dici la squadra Beh però La squadra La squadra È messa in campo Bene Secondo me Non capisco Non è l'allenatore Che dà Secondo me Non è l'allenatore Che dà Il quid in più Però secondo me Ti fa giocare bene Allora Sulla squadra dell'Inter Questo è vero Perché basta vedere Un attimino Quando c'era Quando appunto Il Milan ha vinto Lo scudetto Che l'Inter In campionato Giocava malissimo Che effettiva Veramente pena Non seguiva L'allenatore Non seguiva L'allenatore E in Champions Invece In percorso europeo Invece giocava bene L'anno dopo L'anno dopo È stato bravo Che è stato bravo Che è stato bravo Che era 20-10 Forse lei stava parlando Dell'anno dopo L'anno dopo L'anno dopo L'anno dopo Certo L'anno dopo Che l'Inter Ne perde 12 In campionato Però in Champions Arriva fino alla finale Questo è vero Questo è vero C'era uno squilibrio Però Nel quarto anno Di Inzaghi Quest'anno Questo è il quarto anno Quello che comincia adesso Quindi Nella crescita Comunque Ti è arrivata Una finale di Champions Che adesso va bene Ha ragione chi vince Certo Ma parlando da umili Dici Arriva in una finale di Champions Dove giochi una gran partita Perché L'Inter Prima di quella finale lì È spacciata Dicono tutti 4-5-0 Per il City In realtà Se Lukaku Non salva sulla linea La partita Vagli supplementari L'anno dopo Vince lo Scudetto Giocando bene Credo E dando un'ideologia È vero C'è una pecca Però adesso Non ammazza Sto povero Lukaku Sembra un deficiente No Era lui che ha respito sulla linea E tira l'altra parte Era lì dove si smaretti E realizzava Ho citato l'episodio Che dicevamo prima Come ti può cambiare una partita Una finale Ma scusa Puff No Harry Potter Con la bacchetta Certo Con il sorteggio Quattro squadre sopra Devastanti Quattro squadre sotto Che mi sembrava la Coppa Italia Siamo onesti Sì Anche per l'Inghilterra adesso Però Quattro squadre Non fa parte del Porto Ci sta E' arrivato in finale Quest'anno Perché di Minauro Non ha giocato Però Ha trovato in semifinale Con tutto rispetto Musetti E gli altri Vatteli a vedere Popirin Flernand Ci sta tutto Gente che è 1-240 Nel mondo Massimo ci sta tutto A volte uno arriva anche E' vero Però la crescita Ma a volte ci vuole anche Un pizzico di culo Sì Certo Però la crescita È evidente Cioè L'Inter Quest'anno Ha giocato bene Non sto dicendo questo Quindi Due anni di contratto Secondo me Marotta La pensa come me No Cioè lui dice Facciamolo crescere Io mi ricordo Una dichiarazione di Marotta Dell'anno scorso In cui gli chiedono Di Inzaghi E lui dice Bravissimo E poi però dice Io non ho ancora capito Quanto l'allenatore Conta o contano I giocatori e i dirigenti Quindi gliela tira sempre Quella l'allenatore Cioè un allenatore Però Un suo Allora No Parliamo però Se sei bravo Se sei bravo Non mettiamo la testa sotto la sabbia Cioè No 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 Allora C'è da dire tutta no Se l'Inter va a casa col porto Inzaghi viene esonerato Bravo Ok No aspetta Va detto tutto Lì non vale il palo e la riga Lì non vale il palo e la riga Io sono un tifoso opinionista Che però Dico le cose come stanno Quindi non faccio lo studio Quando vuoi No non è vero Magari lo scudetto La vincito spesso con un altro allenatore Però se viene esonerato Questo però è la storia Ti dice Come dall'altra parte In effetti Sotto il profilo del gioco Perché allenata da Inzaghi L'Inter ha una sua identità Quindi quest'anno L'Inter a me è piaciuta Oltre ad aver vinto lo scudetto Perché l'Inter Ha Ha grandi giocatori Lui ha imparato dei suoi errori Beh Sicuramente ha modificato Secondo me ripeto Siccome questo è il quarto anno Che Inzaghi è la guida dell'Inter Fare solo un anno di contratto Qui che voleva arrivare Ci sta anche Posso dirti cosa mi ha detto Un allenatore Anche perché Sono il primo a dire Che se domani mattina Mi chiama quello là E mi dice Voglio giocare Voglio allenare l'Inter Non faccio il nome Mi ha detto Con quella squadra Non ne vincevo uno Ne vincevo tre di campionato Beh poi c'è stata L'anomalia del Napoli No vabbè D'accordo Poi vi dirò chi è Ci sta tutto Quando si spendono le luci Tieni presente che secondo me Chi è? Se arriva una telefonata Di uno che parla Lo sai chi è no? E probabilmente stava andando anche lì Io credo che ci sia anche Ci sono degli allenatori importanti Che per esempio sono a spasso Io anche in tempi non sospetti Ho un sogno Cioè tu non ti strapperesti i capelli Se Inzaghi andasse via Se Inzaghi arriva terzo l'anno prossimo Con l'uscita ai gironi di Champions Stiamo qui parlando di un'altra Di un'altra storia Ed è il motivo per cui Marotta Non glielo fa un contatto Però in quest'anno Che ripresente Al di là della doppia stella Che hai vinto lì Non parliamo Te la lasciamo tanti particolari Però la doppia stella Cioè tu in Champions League Non l'hai fatto bene Aspetta Arrivo anche lì Arrivi secondo In un girone Che devi arrivare prima Aspetta aspetta E se arrivi primo Non vai a bescare Non vai a beccare La Tético Madrid Guarda Marce Peschi per il Saint Germain Marce No aspetta Allora il concetto è È vero In Champions non fa Però ricordatevi le parole Della società Ad agosto dell'anno scorso La stella L'obiettivo quest'anno Lo scudetto E le parole invece Di Marotta ieri La Champions Hai detto ieri Hai vinto lo scudetto E adesso qualcosa in più Mi aspettiamo Ma ce lo aspettiamo anche noi Ancora Inter Simone Inzaghi Che parla degli obiettivi L'obiettivo Rispondendo anche Alla domanda sulla Champions Perché gli viene fatto Ovviamente dopo che Marotta Aveva detto quella cosa lì Sentiamo Si riparte tutti da zero Con delle squadre Che Qualcuna si dichiarerà Qualcuna no Tutte quante Avranno la voglia di vincere Come l'Inter Senza dimenticare Quello che è successo Negli ultimi due campionati Perché le ultime due Vincitrici dello scudetto Che sono state Il Milan e il Napoli L'anno successivo Non si sono qualificati Nelle prime posizioni Per disputare la Champions Quindi I miei ragazzi lo sanno Glielo ho già ricordato Sono tornati due Ottimi allenatori Come Conte e Fonseca Che erano già stati Qui nel campionato italiano Quindi sono due ottimi Tecnici Le nostre avversarie Si stanno Si stanno rinforzando Quindi Noi ci dovremmo Far trovare pronti Per forti Chiaramente la Juventus Sta cambiando Ha cambiato guida tecnica È arrivato Un ottimo allenatore Che stimo Che ha fatto Un ottimo Un ottimo percorso Al Genova Allo Spezia E al Bologna E chiaramente Sarà Un antagonista Molto molto pericolosa Come sono le altre Di cui ne ho parlato prima Per quanto riguarda La Champions Il nostro obiettivo È quello di andare avanti Il più possibile Chiaramente Sappiamo che Andiamo ad affrontare Delle grandissime squadre Con dei budget Grandissimi Però questo Non deve essere assolutamente Un alibi Insomma Perché Abbiamo visto due anni fa Cosa siamo stati capaci di fare Il mio primo anno Abbiamo incontrato Il Real Madrid e Liverpool Che poi hanno fatto le finali E non c'erano state superiori Quindi Al di là dei budget Di quello che si dice Conta l'interpretazione E la voglia Insomma Che mettono i ragazzi in campo Ti vedo scalpitare Mentre ascolti queste parole Dimmi A me è anche simpatico Simone Inzaghi Non è che ce l'ho con lui Non è vero Però sta cosa No no Non è niente L'avevi cercato Però Cosa? L'aiuto l'aveva cercato Inzaghi Parati c'era impallinato Parati Sono amici tra l'altro Loro dai tempi di piacenza Lo voleva portare Vero Ma cioè Quando dice quella roba No per Milan e Napoli Dopo che hanno vinto Ma Simone Non scadere In queste cose Da 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 Ti sta dicendo Che è difficile ripetersi Come si dice Scaramanti Scaramanti Ma non puoi dirti Ma tu sei campione d'Italia Sei campione d'Italia Sei campione d'Italia Hai vinto il campionato Con 20 punti di vantaggio Sui secondi Porca miseria Mi viene ancora a dire Eh però Però Marcello Stasera faccio qui Ti faccio l'avvocato del diavolo E poi scusami Io ricorderò sempre Quando Simone Torna Da Istanbul Inizia la stagione Successiva E dice Eh però Cioè Il fatto di essercela Giocata così Con Manchester City Vuol dire che La squadra è forte Vogliamo riprovarci Oh lo dice L'anno dopo Di Istanbul Due anni dopo Non vale più No Ma dai Due anni dopo Allora Scopri Lui sa benissimo Che a mano il jolly Che è quello Di rivincere lo scudetto Però ne sia il fatto Che in fase di trattativa Di mercato Accetta il bonus Di un milione di euro Perché nella sua testa L'Inter può vincere il campionato Ok Detto questo Non ti può dire Ah vinciamo Sicuramente Siamo i favoriti Ma non devi dire vinciamo Ti sta dicendo Che è difficile Lui Parla un po' il corpo Dicendo Milano e Napoli Vincono il campionato Non ho dopo Quello che ha detto Scusate Sono delle ovvietà Sono ovvietà Allora ti dico La Juve Ha vinto nove volte Di fila E ti dico la stessa cosa Non è che ha vinto Quarant'anni fa Nove volte di fila Cosa vuol dire La storia Dice il tutto Il contrario di tutto Però la storia Se no Io ti dico Appunto La Juve Ha vinti nove di fila E l'anno dopo Doveva Non doveva vincere No Puntiamo a rivincere No La storia Ti dice anche Che sulla carta Poi non è detto Che vinci Non è mai detto Ma l'ho capito Ma tu sei campione d'Italia Ho capito Lui sta dicendo Ma non devi dire Ma non devi dire però Il Milan Quando ha vinto Poi non è arrivato in centro Il Napoli anche E invece la Juve Ne ha vinti nove di fila Scusate Perché non dice anche quello Perché non dice anche quello Però scusa Perché non c'entra In prima persona Sul fatto che deve difendere Uno scudetto E ti dice Dal suo punto di vista Ma perché essere scaramanti Ci metterti la mano avanti Ma lo dicono tutti Cioè il mano avanti Lo stesso Conte dice C'è un gap impossibile Da raggiungere Ma in testa sua Ma Conte è arrivato adesso No Però è per qui Al quarto anno Sto dicendo Che non sempre Allenatori che parlano In conferenza La verità Dici tu Ma tu sei consapevole Della forza della tua squadra O no? Sì sei certo Allora se sei consapevole Non è che devi fare Lo smart jazz Andare lì Sbruffone E dire no Ma noi quest'anno No Queste cose Magari direbbe Murigno Ma non devi andare lì E dire Noi stravinceremo Abbiamo rispetto di tutti Ma noi partiamo Da campione d'Italia E vogliamo tornare a esserlo Anche alla fine del prossimo anno Questo è tutto Poi ci puoi anche non riuscire Ci faremo i complimenti Se ci batteranno Ma noi facciamo Se ce lo si aspettava ieri Di sentir dire Qualcuno si dichiarerà Qualcuno no Ma che dà Ma che dà Secondo me Cosa devono dichiarare Gli altri Cosa devono dichiarare Gli altri No Cioè Sentiamo Sentiamo Mariana Tu come le hai interpretate Queste dichiarazioni La state facendo Più grande Ma io le interpreto Che secondo me Adesso si guarda un attimino Nello specchietto retrovisore E dici Aspetta un attimo È arrivato Conte Perché Allora un attimino Bisogna anche basare un attimo I caratteri Al di là della bravura E tutto quanto Dell'allenatore Secondo me Il Napoli Competerà per lo scudetto E io Possimi inzaghi Sì è vero Ma non lo vedo Come un allenatore Che dice appunto Ah al prossimo anno Vinciamo Appunto Perché non Non è quel tipo di persona Conte uno spauracchio Per tutti Sì Però dal punto di vista Del tifoso Dal punto di vista Tecnico E da parte del tifoso Tu avevi un problema Là davanti E la società Te l'ha risolto Perché Parliamo del fallimento Champions Tra virgolette Perché comunque Anch'io mi aspettavo Almeno dei rivali Sì bene I nazionali ottavi Non è stata No Poi per com'è andata Poi per com'è andata E vincevi E avanti Però Cos'è il problema Hai davanti Un terminale Che purtroppo Gioca male Quella partita Che è Arnautovic No La società All'andata 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 No 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 Aspetta Sto dicendo Che cosa hai paura Nessuna paura E allora Dillo Io rispetto Una cosa Io rispetto Tutti Ma io Sono consapevole Che sono campione Siamo forti E noi ce l'andiamo A giocare Le avversarie stanno crescendo C'è più competitività Di tutte quelle Io credo quasi tutte A parte la Roma Che però l'ha cambiato a febbraio Hanno cambiato tutti All'andata La Juve ha cambiato Il Napoli ha cambiato La Lazio ha cambiato La Fiorentina ha cambiato Il Milan ha cambiato Ha cambiato tutti Questo è un vantaggio Tutti A parte l'Inter e l'Atalanta Tutte le prime Sono Ma di fatto E' anche un vantaggio Avere fatto Diciamo Avere finito il mercato Sostanzialmente a luglio Perché ti consente La possibilità Di trovare qualche occasione Magari Che non hai l'acqua alla gola Come magari l'avevi l'anno scorso Per sostituire Lukaku Comunque tu sei contento Di quello che ha detto Simone Inzaghi Non farmi adesso La figura dell'Interista Mi mettete lì Cosa vuoi che cambi Grande Simone Ma cosa vuoi che cambi Che lui dica Obiettivamente L'opinionista Che viene in televisione Sei contento Di quella Ma cosa vuoi che cambi Per un tifoso Sentire dire Ah oh Quest'anno E però scusa Prima dicevamo Conte Tocca le corde Quindi adesso ti chiedo Se Inzaghi tocca le corde Poi tu mi puoi dire E' un carattere E' un carattere diverso Forse meno Meno incisivo Meno incisivo Allora in pubblicità Bertone Mi ha detto una cosa Ok Che non si può ridire In onda Mi ha detto Io se fossi un tifoso Del Napoli oggi Dopo che parla così Antonio Conte Sono le 11 e mezza Esatto Sarei molto contento Avrei una cazzimma incredibile Avrei una cazzimma incredibile Ho detto una cosa Più o meno così Più o meno così C'era un pezzo di parola Che ci stava dentro C'era anche una canzone Ok Adesso allora ti faccio la domanda Dopo che ha parlato Inzaghi Hai questa cazzimma? Hai questa roba che ti dici? Guarda la faccia Guarda la faccia La faccia Sai qual è la cazzimma? C'è la cazzimma Allora ho ragione io È più forte la squadra Quella squadra io di Scudetti La squadra è più forte Uno o tre Ma l'anno per tre anni è stata la squadra più forte Ma quello che ha vinto il Milan Ce l'aveva in mano lui L'anno che ha vinto il Milan L'anno che ha vinto il Milan Era la squadra più forte l'Inter Sì anche lì allora la squadra La squadra è fallita Infatti stava vincendo il derby Ed era più dieci eh ragazzi C'è il campionato era finito Però anche quell'anno lì Allora ti dico Il giorno del derby Stava vincendo una zero Era più dieci Sì certo Però ti sto dicendo Più dieci con la vittoria eventuale su Bologna Sì più sette con una partita in meno Con una partita in meno Però di fatto non arriva il Milan a meno quattro Questo di fatto è il concetto Sì certo Però secondo me che lo dice Massimo Allora quell'anno lì È la squadra più che ha fallito Comunque la cosa incredibile È chi ci crediamo Più noi da fuori Che lì della forza dell'Inter E il suo allenatore Ma scusi Cioè veramente Io che dico Ma io cosa ti ho detto un minuto fa Cioè parte già favorita per lo squadra Magari lui fa così Ma io un minuto fa Cosa ti ho detto Ma io sono un tifoso oggi Dell'Inter Deve essere orgoglioso Che tu ti dicano Tu devi caricare la tifoseria Ha ragione Devi caricare la tifoseria Ma la tifoseria è già carica Ti faccio ascolta L'ultimo passaggio Che è Inzaghi su mercato Perché poi in tutto questo C'è un mercato Che non è ancora finito Perché l'Inter vuole ancora un difensore Vediamo se Inzaghi qui ci regala un titolo Ma ce l'ha dato il titolo Ce l'ha dato? Lo sentiamo Adesso chiaramente abbiamo avuto questo contrattempo con Buchanan Che chiaramente dovremmo Stiamo già valutando insieme ai dirigenti Dobbiamo chiaramente completare in quel ruolo Perché sarà un'assenza fino a Natale Di un ragazzo che si stava ambientando Che stava facendo molto bene Vogliamo andare lì a prendere un giocatore Che può essere utile per fare il vice bastoni Per aiutarci insomma nelle rotazioni Fermo restando che questa urgenza Sappiamo che c'è Ma non è che ci fa perdere il sonno la notte Perché abbiamo visto che in quel ruolo Gli ultimi sei mesi Carlos è stato strepitoso E l'anno prima Cerbi Quando gli ho chiesto di fare il brocetto L'ha fatto molto bene anche lui I nomi che sono usciti Che ci sono detti Sono tutti giocatori che interessano all'Inter Poi chiaramente ci abbiamo un presidente Ci abbiamo una società Ci abbiamo un confronto continuo Sono quelli che sono usciti in questi nomi In questi giorni sono nomi che interessano all'Inter Poi chiaramente bisogna vedere anche la disponibilità Che ci sono I giocatori chiaramente verranno interpellati Come ho detto Abbiamo o questo desiderio E senz'altro sarà colmato Per quanto riguarda il mercato Non posso mai dire mai Insomma poi ho la fortuna di avere Dei professionisti qua davanti a me Che sono maestri in questi E mi hanno sempre aiutato in questi anni Qual era il titolo secondo te? In realtà non in questo Ci sono altre parole No è l'ultimo E' lui l'ultimo No in realtà su Carboni Ah no no ce l'ho se vuoi Vuoi sentire quella su Carboni? Perché su Carboni Tutti dicono Però io parlavo del mercato difensore No ma no no Ce l'ho su Carboni Parlavamo del titolo Ci dà il titolo Il titolo è che l'Inter crede in Carboni Cioè tutti dicono 35 milioni e 30 Fa bene a credere Oggi da qualche parte è uscita anche la storia Che l'Inter voglia la recompra su Carboni Quindi lui ci dice che l'Inter punta su Carboni Che secondo me In prospettiva come diceva Massimo prima Diamo spazio ai giovani Sì però lui ha detto una cosa Che non va sottovalutata Andiamo a vedere la disponibilità Beh ma sappiamo Io sono convinto Infatti hanno preso Taremi Taremi e Zilinski Zilinski a zero Le operazioni di Marotta Perché Marotta sa esattamente Perché l'hanno messo presidente a Marotta Hanno scelto uno Perché Marotta sa esattamente Come stanno i conti dell'Inter Come può muoversi Come non deve muoversi Quindi chiaramente adesso Avranno da sostituire Tu dici Devono prendere un difensore Devono capire Esce uno Prende l'altro Perché Occhi Tri Che ho visto tanti E Occhi Tri Quando sono stati pignorati Quando sono stati pignorati Erano tutti così Marcello Non è pignorato Marcello E Occhi Tri Non è l'antifiammatorio Occhi Tri Non è l'antifiammatorio E dice Guarda ci sono tanti di quei soldi Anche perché I fondi Gestiscono soldi di Arce Marcello Gli ha già bloccato Ermoso No ecco Lì volevo arrivare Esatto Lì volevo arrivare Ma infatti Non vuole prendere Un giocatore di trent'anni Fate più probabile Che va al Napoli Fate più probabile Che va al Napoli No però lì Lì sono d'accordo Con la società Nel senso che Più che prendere Un giovane O comunque Un giocatore diverso Dal braccetto Perché dice Carlo Gusso Si è posto di là Prendendo Ermoso Tu hai la possibilità Di tappare Ermoso costa No è a zero A zero È a zero Tu hai la possibilità Di tappare un buco Ed eventualmente Ragionare sul fatto Che comunque Devrai E Acerbi Hanno una certa età Io però su sta cosa Gli occhi Tri Voglio dire anche Ritornando un attimo Indietro sulla questione Contratto Io penso anche Che ci abbia messo il becco Anche il fondo di investimento Gli abbia detto Oh ragazzi Non facciamo il contratto A tre anni Quattro anni Da quando è cambiata Presidenza morale Anche noi Comunque la nostra intenzione È di non restare qua Momento in cui Noi vendiamo Noi cominciamo a farglielo Per un anno Stendiamolo ancora per un anno 2026 Dopodiché Chi comprerà l'Inter Vedrà cosa deve fare Deciderà poi eventualmente Ma noi Noi dobbiamo soltanto venderla Ma anche a Mancini Tenendo i conti in ordine Tenendo i conti in ordine Vedendo di avviare la procedura Per lo stadio E dopodiché lo vendiamo Non ci interessa Ma è una politica Anche con Mancini Fecero due anni Da quando è nato via Moratti Tutte le proprietà dell'Inter Non hanno mai fatto Contratti lunghissimi Ma anche agli altri allenatori Tiago Motta Quanto ha firmato Scusa Quanti anni ha fatto 2 più 1 2 più 1 Fonseca 2 più 1 Vedi Quindi alla fine Considera la tara Che in zaghe Tre anni che c'è Ci sta che faccia 1 più 1 2 più 1 Cioè non è così fuori dal mondo Ce l'abbiamo il passaggio Quello su Carboni Lo chiedo alla regia Ce l'abbiamo Allora ascoltiamolo Inzaghi Ma per quanto riguarda Carboni Un giocatore Insomma Abbiamo visto quello che ha fatto Quest'anno al Monza Quando è stato impiegato È un giocatore che Ha dimostrato con noi Due anni fa Ha dimostrato nel Monza Ha avuto Un inizio di Coppa America Ottimo E quindi È nel futuro dell'Inter Quindi lo aspetto insieme Al nostro capitano Chiaramente noi con Carboni Abbiamo un'opzione in più Perché Carboni può Chiaramente a seconda delle partite Puoi anche cambiare Metterti con due giocatori Che lavorano sotto Sotto una punta In qualche partita Può anche fare il quinto offensivo Nel momento in cui Tu mantieni 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 due quinti Carboni Può rimanere da una parte Largo Puntandoti sempre l'uomo Come ha fatto qualche volta Anche quest'anno nel Monza Quindi Il fatto di avere Carboni in Rosa È un qualcosa che ci può migliorare Perché noi sappiamo che La caratteristica dell'uno contro uno Negli ultimi tre anni Non ne abbiamo tanta Ma compensiamo con tantissime altre qualità Che hanno i nostri giocatori Non dimentichiamo che quest'anno Insomma Tra di noi abbiamo anche Carboni Che abbiamo visto tutti Quello che è capace di fare Insomma Speso parole Effettivamente importanti Vabbè Qua si è sposto bene Sì Si è sposto però Sì Io al Monza Sì l'ho visto È un bel giocatore Facceva la riserva al Monza Quante partite ha fatto Molto giovane Non è vero Però Anche in Coppa America Per esempio adesso Finora ha giocato 14 minuti Però io vedo che A differenza di Casa Dei Cioè è molto stimato Questo è evidente A differenza di Casa Dei Ha portato un'offerta Di 30 milioni a Riad E ne parlavamo a gennaio infatti Quando Ausilio era a Riad Un mio amico Ha portato 30 milioni Dalla Premier Un'offerta Non si sono neanche seduti al tavolo Però vedi A differenza di Casa Dei Che andò via Qui ci mettono la faccia in tanti Oddio Avevano portato anche un'offerta Importantissima Dalla Premier Per Ildiz E lì La Juve Neanche se volutasse Nella tavola Neanche lì Sì sì Però Ildiz Già l'abbiamo visto di più Sì sì Cioè l'abbiamo visto Titolare nella Turchia Adesso E posso dirti una cosa Posso dirti una cosa Da Juventino Sì Ildiz Un bel profilo Un bel giocatore Però francamente Non è che Gli ho visto fare delle cose Da dire Mamma mia Che fenomeno E bravo Però qualche colpo Gli hai visto fare Certo Perché il giocatore Io dico Gli addenti ai lavori Lo conoscono Esatto Giovanissimo Quindi 19 anni C'ha Carboni 19 anni C'ha Ildiz Però ha giocato di più Ildiz Ha giocato di più L'ho visto di più Lo vedo in nazionale titolare Se hanno rifiutato 30 a gennaio Vuol dire che li rifiuterebbero anche adesso No non lo so Non lo sai questo Non lo so se Qua in zaghi ha parlato da aziendalista O ha parlato da Visto che parliamo di giovani Io per esempio Non so cosa ne pensi tu Io su Le Lo venderei Su Le Domani mattina Uno lì c'è i giovani Sì i giovani Ma poi sei alla Juve Domani mattina Sei all'Int No certo Però qui bisogna capire Con tutto rispetto per Non sei al Monza Con tutto rispetto per No poi Gagliani Gagliani mi chiamano Gagliani mi ha chiamato Sule ha fatto una buona Discreta stagione al Sorsinone Prima parte 11 gol è vero Andiamole a vedere anche i gol Rigori Calci di punizioni Calci da fermo Non ne ha fatti tante sue azioni Nella seconda parte Scomparso Il Sorsinone dove giocava Il grande Sule E' retrocesso Poi io vedo i tifosi della Juve Che vedono Sule Mamma mia Ma io purtroppo I tifosi della Juve Litigo anche su Di Bala Quindi figurati su Sule Tra poco ci andiamo su Sule Perché può essere la chiave Però io vorrei capire Qui se lui ha parlato Da aziendalista Cioè nel dire Dicendo così Si alza il prezzo Oppure ci crede davvero Sì però nel 352 Su Carboni non c'entra niente Ci devi trovare un posto Però se tu mi parlavi di titolo Il titolo che esce da questa intervista è Non abbiamo gente che salta l'uomo Carboni è utile Questo potrebbe essere Sì questo lui l'ha sottolineato Sì Che Marcello voleva dei titoli un po' più Beh l'Inter non ha gente che salta l'uomo Questo è un dato di favore Danfris non salta Però 35 milioni di rifiuti Non lo so Danfris non salta Allora a gennaio 30 rifiutati Magari 35-40 Non lo so E cosa stiamo parlando Non è uno che salta l'uomo Uno che salta l'uomo È Sanchez Quei giocatori brevilinei Che fanno la superiorità Non va via Difensore non va via Turam non è No ma È diverso come giocatore Massimo spiegami Chiesa è uno che salta l'uomo Chiesa è uno che salta l'uomo Infatti lo vuole Marotte Ma non ha le caratteristiche Ma non è la caratteristica Che ha Turam Cioè Turam salta l'uomo E la velocità è uno che Insomma Non ha la Non ti fa la superiorità È più stretto Turam magari fa fatica Perché non ha Piace moltissimo Devo fermarmi ragazzi Sono in ritardo